Mi chiamo Uda Antonio Bacchisio, sono italiano e vengo dalla Sardegna. Beh avevo insomma una situazione un pochino insomma abbastanza grave diciamo avevo solo undici denti in bocca con problemi anche penso di piorrea insomma stavano già iniziando le gengive a rialzarsi insomma ecco no era un problema anche mangiare avevo delle protesi che poi dovevo togliere rimettere insomma questo non era una come dire una condizione di vita proprio tranquilla che aveva un sacco di problemi non ultimo anche quando esci con gli amici dipende da cosa devi fare cosa devi mangiare insomma ti condiziona la vita adesso sono venuto qui con un mio amico che abbiamo deciso assieme di fare questa cosa qua insomma il mio amico e siamo partiti assieme per il primo viaggio e poi adesso siamo rientrati assieme allo stesso quindi è stata una decisione condivisa un po' avevamo tutte e due più o meno dei problemi simili di più che meno però poi abbiamo deciso tutte e due di affrontare questo viaggio un po così è vero un po alla cieca è perché trovarsi in italia arrivare qua con le come dire con le condizioni anche economiche con le regole che che avete stabilito insomma però ripeto che il fatto che palma sia sardo questo per me insomma ha inciso parecchio quindi questa fiducia nel mio conterraneo quindi ecco no abbastanza abbastanza buona devo dire tutti molto affabili tutti insomma molto disponibili ecco mi trovo bene mi trovo abbastanza bene sin dal dai provvisori che ho montato su insomma certo un po ti devi abituare alla dizione perché in bocca insomma una situazione diversa rispetto alla ai tuoi denti naturali questo chiaro però insomma questi questi problemi poi si man mano che passa il tempo nel giro di un paio di mesi due tre mesi poi ti abitui a parlare di nuovo a evitare insomma ti abitui alla tua nuova condizione ecco sì sono cambiato anche perché i miei denti quelli di prima avevano una forma diversa no per dire però poi alla fine mi sono abituato a questa nuova condizione sembro insomma mi trovo bene ecco non ho più come dire non ho più paura ad aprire la bocca non ho più paura a sorridere non ho più paura a parlare insomma qual è la condizione che che limitavano fortemente anche il mio mio essere ecco voglio dire no la moldavia vabbè ho solo visto kicina non è che ho visto altro insomma ho viaggiato nel centro insomma abbiamo fatto diverse passeggiate questo tutti i palazzi del centro centro è anche abbastanza bello il centro poi man mano che si vai nelle nelle periferie insomma sia l'architettura che tutto il resto cambia insomma le persone cambia un po tutto però non è male non è male sono molti teatri ho visto dei parchi belli no io direi che si possono fidare sì certo si possono sicuramente fidare per quella che la mia esperienza io dico per la mia esperienza poi insomma i numeri fanno anche insomma nei grandi numeri poi c'è qualcuno che magari non è contento ma io sono convinto che la stragrande maggioranza possano essere si ritengono contenti anche parlando con gli altri pazienti insomma che sono arrivati qua con noi sono tutti fondamentalmente contenti ecco